ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video nel video di oggi non partiamo con la mia faccia perché purtroppo faccio questo video di sera quindi evito di farvi vedere la mia faccia in questo stato ma vi faccio vedere subito i prodotti perché questo è un video di prodotti terminati i detersivi e prodotti per la casa francesco le ha sistemati così alla rinfusa ma ora iniziamo subito con il video vi faccio vedere prodotto per prodotto cosa ho terminato nel mese di gennaio 2022 prima di lasciarvi però vi chiedo di iscrivervi al canale di lasciarmi un like a fine video se vi è stato utile e vi è piaciuto e vi ha tenuto anche un po di compagnia e naturalmente di seguirmi anche su instagram perché lì pubblico delle recensioni e delle storie spero interessanti iniziamo subito a vedere cosa ho terminato questo mese mi scuso con voi per la voce ma purtroppo in questo mese non ho proprio voce e non intende tornarmi quindi spero comunque si capisca che l'audio sia qualitativamente decente comunque iniziamo con il prodotto master di casa mia che è il detersivo sole chi mi segue da un po sa che io non lo cambio da parecchio perché mi trovo benissimo in particolare con questo col tappo rosso che è sole con olio di argan che uso per i capi colorati perché per i capi per le lenzuola uso un'altra cosa io non ho molti capi chiari molti capi bianchi perché le bambine usano adesso quasi esclusivamente il nero evidentemente va di moda alla loro età e quindi ho molti capi scuri e questo va benissimo va benissimo per qualsiasi cosa per qualsiasi colore lo uso smacchia bene e ormai lo uso da tanti anni e se riesco lo prendo in offerta quando ci sono due confezioni al prezzo di una di solito una volta al mese questo accade quindi lo trovo sempre a un prezzo abbordabile e il profumo è buonissimo e rimane sui tessuti quindi mi trovo veramente molto bene c'è chi mi ha chiesto se ho provato gli altri ovviamente sì nei nei vari video sicuramente ci sono appunto sia quello col tappo rosa che quello col tappo blu però devo essere sincera questo è quello con cui mi trovo bene meglio perché alla fine per quanto riguarda il potere smacchiante io utilizzo in combo altri prodotti che poi vi farò vedere quindi questo è qualitativamente buonissimo secondo me proprio in combinato con il detersivo liquido uso ad ogni lavaggio acce gentile quindi la candeggina delicata poi spero di riuscire a farvi un video proprio dedicato alla lavatrice quindi a come lavo i capi e i prodotti che utilizzo perché penso che possa essere utile come magari è stato utile a me vedere alcuni video del genere comunque utilizzo sempre acce gentile perché è quella che preferisco come profumo altrimenti qualsiasi candeggina gentile va benissimo qualsiasi candeggina delicata scusatemi non gentile e però questa è quella che preferisco appunto come profumo e ovviamente ci sono diverse confezioni io prendo sempre quella da tre litri perché faccio non vi dico una lavatrice al giorno ma almeno una ogni due giorni siamo in cinque in casa quindi serve assolutamente e questa la utilizza ad ogni lavaggio quando uso il detersivo liquido come ammorbidente ho terminato questo di chanteclery concentrati ai sali marini e fior di loto allora io di queste ho utilizzato e uso ancora gli oli che profumano appunto il bucato che adoro sono oli concentrati piccolini che sicuramente vi ho fatto vedere in passato e che utilizzo soprattutto quando lavo le lenzuola e gli asciugamani infatti rimane un profumo buonissimo sul bucato e persiste a lungo ho voluto provare anche gli ammorbidanti perché erano comunque usciti dopo questi oli profumati almeno nel mio supermercato devo essere sincera non mi hanno entusiasmato il profumo si sente molto molto meno e quindi non mi è piaciuto moltissimo almeno questo mia mamma invece ha utilizzato l'altra profumazione quella gialla non mi ricordo adesso il nome poi ve lo scrivo e devo dire che sui suoi capi o sarà la lavatrice non lo so però si sente molto di più questo non mi ha fatto impazzire quindi sicuramente non lo ricomprerò mentre l'olio profumato è buonissimo sempre in tema di bucato ho terminato la confezione di percarbonato di sodio madalù questo io l'ho preso su amazon vi ho fatto un video dedicato ve lo lascio qui in sovraimpressione proprio sul percarbonato di sodio sui suoi utilizzi sul perché lo uso e come mi ci trovo vi dico che questo lo uso ad ogni lavaggio di lenzuola e asciugamani quindi lo metto direttamente nel cestello e con il detersivo in polvere e lascio andare questo è fantastico praticamente si sprigiona all'ossigeno attivo quindi è un igienizzante uno sbiancante smacchiatore praticamente ha diverse funzioni ma lo spiego veramente molto meglio nel video dedicato quindi vi rimando lì se vi può interessare ovviamente questo è molto più delicato e anche ecologico della candeggina la candeggina classica naturalmente mentre è equiparabile la candeggina delicata perché anche quella sprigiona ossigeno attivo al lavaggio semplicemente varia un attimo la forma cioè nel senso questo sono granulini che vanno sciolti nell'acqua molto calda quindi siccome agisce a temperature elevate questo è raccomandato per lavaggi ha una gradazione superiore ai 60 gradi 50 60 gradi io lo uso anche per smacchiare ma naturalmente vi rimando sempre al video dedicato perché lo spiego molto bene e vi faccio anche vedere l'effetto io lo raccomando ci sono diversi tipi di di percarbonato di sodio nel senso di diverse marche l'importante è prendere quello puro io lo prendo su amazon perché alla fine mi sono trovata bene e infatti ne ho già preso un'altra confezione e sono già a metà della seconda confezione quindi se facessero confezioni ancora più grandi sicuramente le prenderei finiamo con il bucato in questo caso ho terminato un detersivo in polvere sempre sole perché io rimango fedele al mio marchio e devo essere sincera questa era la prima confezione di detersivo in polvere che prendevo da veramente tanti anni a questa parte cioè forse gli ultimi detersivi in polvere che ho visto a casa mia erano quando ero ancora a casa con i miei insomma ero adolescente forse perché mia mamma prima li usava spesso però devo essere sincera i detersivi di una volta non so se erano le lavatrici non so se era il tipo di detersivo però formavano diversi grumi non si scioglievano nemmeno molto bene in lavatrice inoltre sbiancavano veramente tanto i panni quindi un conto alle lenzuola bianche un conto ai capi colorati non andavano veramente molto bene devo essere sincera cioè almeno lo notavo sui capi appunto di mia madre però ho voluto riprovare perché nei vari video che ho visto sia su instagram che su youtube si parlava del fatto che il detersivo in polvere fosse un detersivo completo ossia contenesse sia la parte detergente sia la parte igienizzante quindi con ossigeno attivo e quindi usato anche da solo andava benissimo senza l'aggiunta di igienizzanti e altri prodotti e quindi ho voluto provare naturalmente rimanendo fedele al mio marchio e mi è piaciuto veramente moltissimo voglio infatti adesso ad ogni lavaggio di lenzuola e diciamo capi come asciugamani e accappatoi eccetera che vanno lavate almeno a 60 gradi io utilizzo solo il detersivo in polvere e a volte aggiungo anche il percarbonato di cui vi ho parlato prima ma già solo con questo e poi l'olietto profumato i capi vengono perfetti ho preso appunto questa confezione perché comunque è piccolina è da quasi un chilo e mezzo diciamo in quanto alla fine io lo utilizzo solo per alcuni capi e non me ne serve tanto questo è buonissimo non si formano grumi e vi assicuro che io siccome lo lascio fuori perché la lavatrice ce l'ho fuori è aperto perché ho provato a mettere dello scotch ma questa confezione diciamo che non è proprio bellissima si potrebbero con l'umidità eccetera formare dei grumi in realtà assolutamente no rimane bello in polvere fino alla fine quindi è ottimo e anche in lavatrice a temperature superiore ai 60 gradi si scioglie benissimo e non lascia nemmeno lo sporco sulla vaschetta quando mi ricordo invece un tempo il detersivo di mamma sporcava tutta la vaschetta del detersivo quindi questo è veramente ottimo e ha un ottimo profumo non era l'ultimo prodotto per quanto riguarda le lavatrici mi ero scordata di questi foglietti a chiappa e smacchia che ho preso per sbaglio perché pensavo fossero gli altri quelli normali e naturalmente l'ho tenuti lì a lungo perché devo essere sincera non mi sono piaciuti un granché io preferisco i foglietti normali questi infatti non sono semplici foglietti ma sono delle bustine ripiene praticamente che hanno una doppia azione proteggere dagli incidenti appunto del lavaggio quindi dalla perdita di colore di alcuni capi e un'altra parte appunto rimuove le macchie devo essere sincera con i prodotti che io utilizzo al momento non mi serve l'azione di rimozione delle macchie e quindi è una spesa in più inutile perché ovviamente sono più costosi degli altri inoltre ne avevo lasciati due all'interno e forse con l'umidità non lo so si è strappata la bustina e quindi praticamente ho dovuto buttarli le bustine sono abbastanza fragili e fuoriesce tutto il contenuto insomma per quanto mi riguarda per i tipi di lavaggi che faccio per come uso i prodotti queste non mi servono assolutamente poi per quanto riguarda invece la lavastoviglie ho terminato il mio detersivo preferito che io prendo su Amazon perché trovo delle offerte molto convenienti e infatti prendo veramente proprio gli scatoloni con diverse confezioni che mi durano parecchio e questo di Fairy ci sono due tipologie sia appunto quella con solo due parti colorate sia questa alla fine io le trovo identiche non mi cambia moltissimo mi piace i Fairy perché si scioglie benissimo lava bene le stoviglie e lascia un buon profumo la lavastoviglie rimane bella pulita quindi io lo ricompro abitualmente mi piace mi piace anche il rapporto qualità prezzo quindi va benissimo e lo consiglio per quanto riguarda i prodotti per i bambini oltre ai pannolini babylino che ho terminato non vi sto nemmeno a mostrare ma sono sempre gli stessi magari vi rimando a qualche video passato e sono dei pannolini per i bambini che raccomando per l'ottimo rapporto qualità prezzo ho terminato questa confezione di babyconad chi mi segue da un po' sa che io prendo abitualmente le salviette su Amazon di Mama Bear però mi erano terminate non era ancora arrivato il pacco di Amazon e quindi per emergenza ho preso queste conad che erano in offerta devo essere sincera sono delle ottime salviette ben imbevute hanno un buon prezzo e durano e praticamente sono belle resistenti quindi ottime per qualsiasi uso sia dall'uso sui neonati sia appunto per la detergenza di mani o viso dei bambini insomma per qualche emergenza ottime ottime un rapporto qualità prezzo anche se io tendo sempre a preferire quelle di Amazon ma comunque queste per emergenza sono veramente molto buone dopo quasi un anno ho terminato questo boccione di candeggina quella classica questa è e vi dico quasi un anno perché è una candeggina che io non amo utilizzare l'avevo presa per emergenza perché la uso unicamente sul lavandino della cucina che è infragranita e tende a macchiarsi soprattutto con il caffè anche perché ho un lavandino che ha comunque 14 anni e tende appunto a ingiallirsi e quindi questa mi aiuta molto bene a smacchiarlo e a renderlo appunto più pulito più bianco altrimenti io non utilizzo la candeggina sui capi perché tende a ingiallire i bianchi ho sempre paura di fare qualche danno quindi non la utilizzo per quanto riguarda il bucato infatti vi ho detto appunto i prodotti precedentemente che uso abitualmente in ogni lavaggio questa la utilizzo soltanto per emergenza e anche per emergenza all'interno del WC quando magari lo vedo particolarmente ingiallito per fare in fretta butto un pochino di candeggina non mi piace molto perché ovviamente ha un odore molto particolare anche se ho preso l'aversene profumata è sempre che l'odore di candeggina si sente nell'ultimo video su Watala Spesa ho preso sempre una confezione di emergenza di ace candeggina però nella versione nuova quella più densa quindi se volete vederla andate a vedere il video e devo essere sincera mi sto trovando molto meglio ovviamente questo boccione vi dura una vita quindi per chi la utilizza abitualmente il rapporto qualità prezzo è migliore però io vi consiglio di iniziare a evitare di utilizzarla nella lavatrice perché non è assolutamente necessaria passando al bagno infatti noterete la confezione è piuttosto sporca ho terminato questo ace bagno brillante formula anticalcare senza candeggina perché attualmente sto iniziando a prendere tutte formule senza candeggina questo ha un ottimo profumo veramente molto buono e pulisce molto bene e i lavandini rimangono belli puliti brillanti anche sui rubinetti va via con risciacquo e rimane tutto bello brillante il calcare va via quindi non è che io abbia l'acqua molto calcarea però è un ottimo prodotto e soprattutto mi piace lo spruzzino perché l'erogatore eroga bene una buona quantità di prodotto che permette una pulizia veloce quindi mi è piaciuto veramente tanto e ha un ottimo profumo sicuramente questo è un prodotto da ricomprare sempre per il bagno ho terminato questo vicinetti già nel totale che era uno di quei prodotti che avevo preso in offerta non è tra i miei preferiti perché il mio preferito è quello con i glitter vi rimando sempre al video in cui lo mostro perché ne ho terminati parecchie confezioni e ne ho altre però quando trovo qualcosa in offerta magari lo prendo se ha un ottimo rapporto qualità prezzo e lo metto nell'altro bagno perché ho due bagni questo non è male ha un odore molto particolare infatti l'odore non mi piace particolarmente perché proprio mi sa di detersivo per il water non so come spiegarvelo non mi piace non mi piace l'odore che lascia però pulisce comunque piuttosto bene purtroppo è uno di quelli colorati quindi va pulito bene dopo con lo scopettino però diciamo che per una disinfezione per eliminare il calcare eliminare le macchie è piuttosto efficace quindi si fa presto l'erogatore è abbastanza buono è un erogatore vecchio modello quindi non è quello a multispruzzo che adoro ma alla fine quando si trova in offerta non fa male diciamo infine vi mostro il profumatore che utilizzo nei bagni allora questo è di Glade Relaxing Zen è una delle profumazioni che preferisco di Glade è un profumatore però che avevo da parecchio tempo e quindi ho deciso di terminare perché attualmente poi vi faccio vedere che cosa sto comprando allora questi comunque sono dei buoni profumatori reperibili nella grande distribuzione hanno un buon rapporto qualità prezzo esistono diverse fragranze e durano abbastanza a lungo la cosa che non mi piace molto di questi è l'erogatore perché fa uno spruzzo non lo so non mi piace tantissimo eroga troppo prodotto e secondo me insomma non mi piace ecco non so spiegarvelo però è un erogatore che assolutamente non mi piace sia come come fa lo spruzzo e la quantità di prodotto insomma non io cambierei un attimino packaging comunque il profumo è molto buono non ha un'ottima persistenza ecco diciamo che svanisce abbastanza in fretta almeno per quanto mi riguarda però combatte abbastanza bene i cattivi odori al momento io infatti questi li utilizzo come emergenza e attualmente però sto utilizzando altri profumatori e ora ve li mostro subito ho parlato di questo tipo di profumatore per ambienti su instagram quindi magari seguitemi e andate a leggere la recensione se siete curiose perché lì vi ho parlato di un'altra profumazione che ancora sto utilizzando è da un po' di tempo appunto che ho voluto provare questi profumatori di felce azzura perché io adoro felce azzura come brand perché è proprio un brand che mi rimanda un po' all'infanzia quindi soprattutto nella profumazione classica ve l'ho mostrata penso in diversi video terminati perché è da diverso tempo che li utilizzo e veramente la versione classica che sta di talco mi rimanda un po' alla casa di mia nonna al bagno che profumava sempre di talco quindi è un ottimo profumo quando ho visto che questi però profumatori venivano venduti anche in altre fragranze ho deciso di provarlo un po' tutte naturalmente nel mio supermercato non riesco a reperirle tutte riesco a reperire quella alla lavanda e quella classica attualmente quindi le altre le ho trovate un po' su amazon per fare prima devo essere sincera sono tutte buonissime quelle che ho utilizzato la mia preferita è quella che potete andare a vedere su instagram ma poi vi mostrerò quando la terminerò ovviamente questa invece è vaniglia e monoi ma devo dire che anche questa è molto molto buona allora questo tipo di profumatore per ambienti mi piace molto per l'erogatore perché è tipo quello di un di un classico deodorante quindi spruzza bene veloce eroga la giusta quantità di prodotto ed è anche piccino come quantità comunque abbastanza buona sono 250 ml che vi durano tanto perché basta una piccola spruzzata perché dura veramente tanto a lungo infatti loro dicono che la formula senza acqua serve proprio permettere una profumazione più lunga e devo dire che copre benissimo tutti gli odori le fragranze sono buonissime una più buona dell'altra anche quella classica ovviamente la classica fragranza di felce azzura però se vi va di togliervi uno sfizio provate anche queste altre se le trovate perché sono veramente buone anche questa vaniglia e monoi è veramente delicata questa è forse la più delicata quella un po' meno forte però devo dire che copre bene tutti i cattivi odori e lascia il bagno profumato a lungo quindi ormai sto comprando solo queste per tenerle in bagno sono profumazioni per ambienti che io utilizzo esclusivamente nei bagni non in giro per la casa mi piacciono e non posso fare altro che consigliarvele quindi questi erano tutti i prodotti per la casa e i detersivi che ho terminato nel mese di gennaio 2022 e quindi sto cercando appunto di mostrarvelo mese per mese per non accumulare troppi prodotti fatemi sapere se conoscevate questi prodotti se li avete utilizzati come magari vi siete trovate naturalmente per qualsiasi chiarimento domanda lasciatemi pure scritto un commento qui sotto che mi fa piacere vi rispondo sempre e naturalmente vi chiedo di iscrivervi al canale lasciarmi un like un commento anche solo un saluto se vi fa piacere perché a me fa molto molto piacere leggervi e naturalmente seguitemi anche su Instagram per il momento ci lasciamo qui e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.